Lavorerete per noi? Insomma L'abbiamo fatto Ora si inizia a lavorare sul serio Eh direi proprio di sì E qui ci fermiamo Perché cari miei dovete ricordare sempre Che nella vita Tutto può succedere Sembrava andare tutto benissimo Come avete visto Le cose cominciavano ad andare su Conoscemmo gente grossa E purtroppo però quella gente grossa La conosceva anche La polizia Eh già Il giorno dopo la SWAT entrò in casa del capo Di questa banda E arrestò tutti Fui avvisato subito di scappare Di andare via Che altrimenti avrebbe preso anche me E così Da quel momento Lasciai la città E mi trasferii E come vi avevo accennato Sono scappato in nave E questo prescreccio E' stata la mia salvezza Ora qui Ad aspettarmi La mia nuova casa La mia nuova famiglia Loro sono una gang di Los Santos I Ballas C'è questaiesta E commissione La mia nuova famiglia E qui E qui appena arrivato lì sulla spiaggia mi hanno caricato sul furgone e poi siamo andati nel lorghetto nella nostra nuova casa nella mia nuova casa sono certo che loro sapranno proteggermi e io farò di tutto per proteggere loro da tutto e tutti ora devo soltanto ricominciare e devo soltanto rimettere insieme i pezzi la prima cosa da fare tanti soldi la seconda le armi la terza la nostra mano su tutta la città la nostra Grazie a tutti.